Sei giorni per far conoscere i tesori della Puglia all'Expo di Milano all'interno dell'iniziativa Tutta la luce del mondo che ha avuto inizio venerdì scorso a Milano e di fatto ha inaugurato l'avventura della regione alla fila mondiale più importante legata all'agricoltura, ad inaugurare il primo dei due padiglioni, il neoassessore regionale alle risorse agroalimentari Leo Di Gioia. Consolidare una immagine importante in tema turistico ma anche soprattutto per valorizzare quelli che sono i prodotti agroalimentari che costituiscono un attrattore importantissimo per la nostra terra che in fondo la caratterizzano e che ci consentono di poter appunto sperare che si riesca a costruire anche un turismo legato all'enogastronomia, legato all'ambiente, legato al paesaggio, cioè tutti quei valori che in fondo il nostro territorio detiene in maniera importante. Per sette giorni il sapere e il fare della Puglia saranno raccontati ai visitatori in un percorso di luce particolare, la luce del paesaggio rurale pugliese, catturato in uno spazio emozionale curato dal regista Alessandro Piva. Una straordinaria occasione non solo per attrare e coinvolgere e orientare i visitatori italiani e stranieri presenti ma anche per portare in Puglia una parte dei visitatori attesi all'Expo. Sono partito da questa suggestione che è anche mia personale per fare un viaggio, una ricerca, un avvicinamento al mondo, alla cultura dell'olivo e mi sono reso conto attraverso questo progetto che la mano dell'uomo e la cura dell'uomo nei secoli, quindi di generazione in generazione, ha fatto sì che queste piante diventassero secolari, diventassero dei monumenti. Così ho pensato di raccontare la giornata di un oliveto pugliese e insieme a questa anche come dire, la sorveglianza dei contadini, degli agricoltori che curano queste piante con una dedizione che li rende veramente persone uniche e ci ha permesso di portare fino a noi questa testimonianza di secoli fa.